Noi siamo di passaggio caro Dio, noi siamo polvere e alla polvere ritorneremo e di tutti i soldi, di tutte le ricchezze, di tutti i diplomi che possiamo avere, di tutte le posizioni non resterà nulla, non rimarrà nulla, ma l'importante è credere in Dio, noi siamo qui con l'unico scopo di rispondere a questo messaggio, se qualcuno dà fastidio mi dispiace, io devo fare la volontà di Dio, non vi arrabbiate con me, io non sono nulla, io devo predicare la verità, perché Dio vuole, perché noi siamo negli ultimi tempi, perché questo mondo è pieno di inganno e la verità deve essere predicata, deve essere annunciata, Dio vuole Dio credere, Dio vuole che noi lasciamo i nostri idoli, i nostri concetti carnali, Dio vuole che noi lasciamo il nostro orgoglio, Dio vuole che noi portiamo le spalle al peccato e che lì torniamo a Lui, perché solo in Lui c'è salvezza caro, c'è pace, solo in Cristo c'è guarigione, io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore, Gesù è la via, la verità, la verità e la vita. Grazie 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 Grazie